salve benvenuti nel canale io sono david e in questo video come al solito andremo a vedere le offerte che ci saranno al supermercato lidl per quanto riguarda gli attrezzi da lavoro della parkside offerte valide dal 29 gennaio prima di iniziare con il volantino che premetto essere molto molto interessante ci sono tanti oggetti alcuni a sconto a offerte veramente imperdibili quindi prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video dei volantini dei prodotti alla lidl un set per trapano o chiave a cricchetto per mandrino a 5 euro e 99 per tutti i trapani e trapani avvitatori con mandrino a corona dentata o mandrino a serraggio rapido a scelta tra un inserto per perforazione angolare accessori per evitamento angolare accessori per sega mandrino dentato e chiave a cricchetto per mandrino con questo possiamo andare a eseguire forature verticali oppure altrimenti con questo utensile possiamo andare a avvitare in spazi un po angusti insomma ci sono tante possibilità con questi accessori troviamo una sega circolare ricaricabile al prezzo di 49 euro accetta batterie della serie x 20 volt team non incluse nella dotazione con guida parallela per un taglio preciso e guida laser attivabile profondità e angolo di taglio regolabili a piacere in dotazione una lama a 24 denti chiave a brugola guida parallela e adattatore per aspiratore esterno set fascette ferma a cavo a 2 euro 251 pezzi rullo angolare o set rulli per tinteggiature uno o sette pezzi a seconda della confezione che scegliamo troviamo una pistola sparapunti ricaricabile a 34 e 99 con batteria non inclusa la batteria compatibile la x 20 volt team in dotazione vengono comprese 500 graffe e 500 chiodi massimo numero di colpi 30 al minuto manopola per la selezione della potenza del colpo batteria da 4 ampere a 69 euro modalità impostabili performance balance eco oppure expert con con indicatore del livello di carica a tre livelli è una batteria agli ioni di litio ha una gestione e consultazione dati tramite applicazione con lo smartphone abbiamo un bilanciamento delle celle per una maggiore durata della carica e una maggiore vita utile 70 per cento di correnti di scarica più elevate per una maggiore potenza e 100 per cento maggiore durata a parità di grandezza della batteria troviamo anche questa volta la guida di bloccaggio di taglio utile se dobbiamo andare a fare dei tagli precisi su dei pannelli a 9 euro e 99 per comuni seghetti alternativi frese verticali o seghe circolari leva di serraggio rapido a tre livelli lunghezza di serraggio da 0 a 100 centimetri e direzione del taglio da 90 gradi a più o meno 20 gradi troviamo un rifilatore ricaricabile per realizzare tagli rifiniture o adattamenti in cartongesso oppure truciolato a 44 euro la batteria anche in questo caso non è inclusa nella dotazione vediamo le caratteristiche un massimo numero di giri a vuoto da 3000 al minuto regolazione della profondità di fresatura adattatore per aspiratore esterno avvio graduale funzione di protezione dal riavvio troviamo anche in questo volantino la smerigliatrice assiale ricaricabile a 49 euro a tanti ambiti di impiego può essere uno strumento molto versatile che va dalla levigatura di precisione alla asportazione efficace di alcune parti di materiale regolatore dei giri a 6 velocità numero di giri a vuoto da 4500 a 22000 giri al minuto alloggiamento tensili pinze fino a 8 mm con accessori inclusi nella dotazione anche in questo caso la batteria non è inclusa e la batteria compatibile alla x 20 volt team troviamo una smerigliatrice angolare ricaricabile a 24 euro e 99 manico regolabile in tre posizioni numero di giri regolabile a piacere dal 2500 a 11000 giri al minuto mola da taglio per metallo premontata e chiave da montaggio inclusi nella dotazione protezione due in uno per tagliare e smerigliare anche in questo caso batteria e caricabatterie non inclusi e la batteria è la classica x 20 volt team troviamo matita per fughe oppure penna correttrice oppure pennarello di cera per legno a un euro faro a led ricaricabile dal lavoro 24 euro e 99 con batteria non inclusa nella dotazione con due livelli di luminosità regolabili e testa orientabile due filettature integrate da 5 ottavi e un quarto di pollice per l'uso con un treppiede massima luce 2300 lumen e la gradazione da 5700 kelvin sega a nastro ricaricabile a un prezzo scontato di un ulteriore 30 per cento 69 euro il prezzo finale con regolatore dei giri a 6 velocità numero di giri a vuoto 360 670 giri al minuto profondità e velocità di taglio parliamo di 63,5 mm e 1,5 2,7 metri al secondo scorrimento del nastro senza vibrazioni per risultati più precisi anche in questo caso batteria x 20 volt team non inclusa nella dotazione set accessori per smerigliatrice angolare 1 2 4 5 o 12 pezzi a seconda di quello che andiamo a scegliere a 4 euro e 99 troviamo mole da taglio diamantate mole abrasive da taglio dischi lamellari abrasivi mole abrasive disco per lucidatura disco per pulizia o piatto per levigatrice con set di carte abrasive a strappo batteria da 2 ampere con carica batteria incluso a 19 euro e 99 un prezzo molto interessante perché con il leader plus abbiamo un 20 per cento ulteriore di sconto rispetto al prezzo normale con indicatore dello stato di carica su tre livelli la batteria è agli ioni di litio e la tensione nominale è da 20 volt la potenza nominale assorbita è da 65 watt ed è compatibile con tutti gli apparecchi della serie x 20 volt team troviamo all'ottimo prezzo di 19 euro e 99 questo trapano percussione ricaricabile 3 in 1 è capace di forare con percussione forare senza percussione oppure avvitare con impugnatura aggiuntiva che può essere anche avvitata su entrambi i lati il numero di giri nominale a vuoto varia da 0 a 440 al minuto e in seconda velocità da 0 a 1650 al minuto la frequenza delle percussioni è di 26.400 al minuto la massima coppia pensate bene 45 newton metri niente male batteria naturalmente non inclusa e compatibile con le classiche batterie ma marchio parkside lame per seghetto a pendolo a 2 euro e 99 seghetto a pendolo ricaricabile a 39 euro e 99 batteria non inclusa corsa a pendolo regolabile su tre livelli paratrucioli trasparente pieghevole e rimovibile numero di corse da 0 a 2700 al minuto la massima profondità di taglio è da 80 mm nel legno 5 mm nel metallo 12 mm nell'alluminio 6 possibili angoli di taglio troviamo una pistola termica ricaricabile a 24 euro e 99 batteria accettata la x 20 volt team non inclusa ma inclusa troviamo un ugello piatto un ugello riflettente un ugello riduttore due livelli massimi di temperatura a scelta tra 250 e 550 gradi centigradi con aria fredda impostabile per un raffreddamento rapido e il flusso dell'aria è da 170 litri al minuto cassetta porta minuteria impilabile a 9 euro e 99 due pezzi con 20 separatori per ciascuna cassetta dimensioni 36,5 x 12,4 x 29,5 un adattatore ricaricabile a 20 volt a 19 euro e 99 permette di ricaricare smartphone tablet o macchinette fotografiche ricaricabile fino a tre dispositivi contemporaneamente tramite due porte usb di tipo usb a e usb c presente anche un led nella parte anteriore il cavo usb è incluso nella dotazione e ha una lunghezza di un metro e 50 miscelatore per malta e colore a 49 euro con uno sconto di ulteriori 10 euro e questo utensile l'abbiamo già visto in altri volantini ha un numero di giri nominale a vuoto da 0 a 650 al minuto necessario per mescolare materiali liquidi e in polvere adattamento ottimale alla miscela grazie al controllo della velocità su sei stadi montaggio delle aste di miscelatura senza attrezzi e asta inclusa alloggiamento dei miscelatori con sistema bloccaggio rapido o un diametro dell'asta di miscelatura da 100 mm batteria carica batteria non inclusi nella dotazione troviamo una fresa attrice per tasselli piatti ricaricabile con batteria non inclusa a 59 euro adatta anche per fresare fughe caratteristiche 6 profondità di fresatura regolabili la massima profondità è di 20 mm la larghezza di fresatura massima è di 4 mm impostazione della battuta inclinabile da 0 90 gradi il numero di giri a vuoto è da 6500 al minuto troviamo una levigatrice per pareti e soffitti ricaricabile con velocità regolabile e allacciamento per aspiratore esterno indispensabile per questo tipo di lavorazione 99 euro il prezzo diametro del piatto di levigatrice è da 225 mm il numero di giri a vuoto è da 600 a 1200 al minuto testa abrasiva inclinabile di 150 gradi o 60 gradi sinistra destra manico telescopico in alluminio allungabile da 110 a 150 centimetri con manico di supporto a t per il lavoro sul soffitto batteria e carica batteria non inclusi ma in dotazione abbiamo una chiave un tubo flessibile da 2 metri un sacchetto per la polvere una borsa 8 carte abrasive portapunte magnetico per trapani di uso comune 7 adattatori quadrati 3 misure 7 bit per carton gesso 5 o 6 pezzi 7 ganci o 7 rondelle o 7 dadi esagonali 2 euro e 50 troviamo anche una batteria 4 ampere a 29 99 la classica batteria 4 ampere troviamo infine calze da uomo parkside da 1 euro e 99 misure dalla 39 alla 46 in tre colorazioni molto carine nere bianche oppure questa fantasia bene abbiamo finito con i prodotti a marchio parkside anche per questo volantino fatemi sapere se qualcosa avete già acquistato se qualcosa avete intenzione di acquistare ci vediamo con nuovi volantini nel prossimo video che ci sarà la prossima settimana quindi vi aspetto iscrivetevi alla prossima ciao